Tragedia alla stazione muore operaio 58enne infortunio mortale sul lavoro a Benevento la vittima di Napoli stava lavorando su un'impalcatura per la realizzazione di nuovi uffici delle ferrovie dello Stato ha perso l'equilibrio ed è caduto inutili i soccorsi la rabbia del sindacato coronavirus napoletano ricoverato al cotugno al paziente diagnosticata una sindrome influenzale sospetta l'uomo era rientrato dalla Cina ma i medici escludono abbia contratto il virus si attende l'esito del test intanto dilaga la psicosi in campagna trasporti sciopero flop pochi disagi a Napoli doveva essere una giornata nera per i pendolari campani ma alla protesta proclamata dall'USB c'è stata una scarsa adesione in servizio più dei tre quarti dei bus e dei tram a disposizione dell'ANM regolari la linea 1 della metro e le funicolari 5 stelle i campani in rivolta contro fico no all'accordo con il partito democratico gli attivisti contestano i parlamentari ma il presidente della camera invita la riflessione un'altra strada è possibile intanto piero de luca annuncia direzione regionale del pd il 17 boccia lo stracismo dei 5 stelle usura e rache colpo alla gang salernitana tassi usurai fino al 300 per cento vittima degli strozzini un negoziante di cava dei terreni sotto scacco per anni sotto la minaccia di violenze cinque persone arrestate nella banda anche alcuni commercianti che si erano trasformati in esattori smog vigili a caccia delle auto inquinanti ad avellino e salerno controlli serrati dei vigili urbani per le vetture più datate nel capoluogo irpino l'ordinanza del sindaco non convince gli ambientalisti e luca cipriano dall'opposizione in calza si decida in consiglio comunale e questi erano i nostri titoli buon pomeriggio ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696 in apertura lo avete sentito l'infortunio sul lavoro a benevento la vittima è di napoli stava lavorando su un'impalcatura per realizzare i nuovi uffici delle ferrovie ha perso l'equilibrio ed è caduto i particolari nel servizio è caduto da una trave che stava armando per la costruzione dei nuovi uffici in movimento della stazione centrale di benevento drammatico incidente sul lavoro questa mattina in pieno centro del capoluogo sannita a perdere la vita un 58enne diafragola dipendente di un'impresa del napoletano che sta realizzando una nuova costruzione al ridosso dei binari secondo una prima ipotesi l'opera è caduta da una botola rovinando a testa in giù sulla massicciata sottostante un molo di circa 4 metri inutile purtroppo i tentativi di rianimarlo da parte del 118 troppo violento l'impatto ennesima tragedia sul lavoro in campania che scatena l'ira della cgl che chiede più controlli nei luoghi di lavoro non c'è più controlli i controlli sono mai sono scomparsi sulla sicurezza quanto gli enti bilaterali del settore sono a disposizione di tutte le imprese per fare corsi di formazione anche corsi di primo ingresso ma oramai sono poche quelle che partecipano vanno dai faccendieri che fanno il certificato si prendono i soldini e finisce l'ecco sequestrato il cantiere in attesa di capire l'esatta dinamica dell'incidente sempre dalla cgl ma trasporti arriva un altro monito sulla sicurezza noi vogliamo conoscere i controlli che sono effettuati sui luoghi di lavoro vogliamo capire se all'interno poi del dvr il documento valutazione rischi se vengono veramente valutati i rischi che il lavoratore va incontro veniamo all'allarme coronavirus nuovo caso sospetto a napoli un uomo è stato ricoverato al cotugno utilizzati i kit per la diagnosi veloce intanto allo spallanzane di roma è stato isolato il virus e nel team delle ricercatrici anche una napoletana vediamo coronavirus caso sospetto a napoli e torna la paura in nottata è stato registrato all'ospedale cotugno un nuovo ricovero per una sindrome influenzale sospetta nel laboratorio diretto da luigi a tripaldi si stanno eseguendo le analisi con i kit per la diagnosi veloce il paziente accusava al momento del ricovero febbre tosse e dolori addominali era rientrato da pechino da dieci giorni dopo aver trascorso un mese nella provincia del iubei ma intanto dallo spallanzani è arrivata una buona notizia è stato isolato il virus da un team di tre dottoresse meridionali tra queste una campagna si chiama maria rosaria capobianchi è di procida ed è la direttrice del laboratorio di virologia dello spallanzani grazie al lavoro delle tre dottoresse ora è più facile studiare una terapia adeguata un passo fondamentale per tutta la comunità scientifica che consentirà di accelerare la ricerca per il contrasto a questa malattia l'italia ha uno dei servizi sanitari migliori al mondo e lo ha nuovamente dimostrato e questo è il commento del ministro alla salute roberto speranza e intanto sempre a napoli esplode la rabbia dei residenti di corso arnaldo lucci trasformata ormai in una zona a luci rosse a causa delle prostitute cinesi una vera e propria china town del mercato del sesso la strada che collega via marina alla stazione centrale c'è chi non nasconde la paura che le prostitute possano essere portatrici del coronavirus e scatta la petizione popolare per allontanarle dalla città doveva essere una giornata nera per i pendolari campani per l'ennesimo sciopero del settore dei trasporti alla fine i disagi per fortuna sono stati limitati si attesta infatti intorno al 22 per cento l'adesione delle linee di superficie all'azienda ANM allo sciopero del trasporto pubblico locale a napoli proclamato dall'USB a darle notizia e la stessa azienda napoletana per la mobilità nel corso della giornata come riferisce l'ANM saranno in servizio più dei tre quarti dei bus e dei tram a disposizione regolari la linea 1 della metro e le funicolari la funicolare di chiaia effettua solo corse dirette veniamo alla politica le regionali la base campana dei 5 stelle dice no a qualsiasi tipo di accordo con il partito democratico ed è rivolta contro i parlamentari mafico invita alla riflessione dice un'altra strada per il movimento è possibile intanto Piero De Luca annuncia la direzione regionale del PD il 17 e dice no allo stracismo dei 5 stelle vediamo un lungo e acceso confronto si è tenuto ieri a Napoli sette ore di dibattito con 400 attivisti 5 stelle 120 interventi ha mostrato un'altra crepa nel movimento quella tra gli attivisti sul territorio e i rappresentanti a Roma perché se questi ultimi come Roberto Fico sembrano orientati a percorrere le strade riformiste indicate dal PD di Zingaretti i militanti locali non ne vogliono sapere e dicono no all'alleanza non solo con il partito democratico ma con qualsiasi partito oltre il 90% è contrario all'intesa ma l'occasione è buona per mettere in stato d'accusa anche il presidente della camera Roberto Fico che invece sollecita una riflessione non si può essere antisistema se sei dentro le istituzioni un'altra strada per il movimento è possibile Valeria Cerambino esulta la capogruppo in regione si è sempre opposta a qualsiasi tipo di accordo nella speranza di riaprire la propria corsa per la presidenza anche se il problema non è il candidato dice mai programmi non è una questione di candidatura io voglio parlare di progetto di rinnovamento non mi interessa se il PD sta aprendo al movimento 5 stelle perché teme di perdere e quindi l'obiettivo è quello di una vittoria a ogni costo dove ci si divide le poltrone questo non è il nostro obiettivo intanto il PD non starà ancora molto ad aspettare il 17 ci sarà la direzione regionale Piero De Luca deputato e figlio del governatore dice basta allo stracismo dei 5 stelle ovviamente il partito democratico farà abbiamo una direzione regionale convocata il 17 la propria scelta confermerà il governatore uscente quale candidato del partito democratico mettere in campo una coalizione di centro-sinistra ampia che guardi a sinistra ma guardi anche al campo moderato riformista quindi aperti ancora oggi ad un diciamo campo largo nell'ambito del centro-sinistra però poi ci vuole la disponibilità di tutti a sostenere sul tema e sui contenuti di merito perché mi pare che non sia aggiunto un contenuto di merito dalla dall'assemblea ieri dei 5 stelle continua purtroppo la base questo ci dispiace ma è un problema che a questo punto diciamo difficilmente ci riguarderà uno stracismo diciamo di principio Ed è giallo in Valle Caudina per il rogo che ha distrutto due autobus dell'Aire nel deposito di Rotondi in Irpinia sarebbe stata confermata dalle prime ipotesi la natura dolosa delle fiamme l'incendio si è sviluppato in via Caudina all'interno di un'area chiusa utilizzata come zona di stazionamento per i bus sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio evitando che le fiamme si propagassero mentre la polizia ha raccolto gli elementi necessari a ricostruire la dinamica dell'episodio Tassi usurai fino al 300% in un anno con un negoziante di cavali tirrenni sotto scacco sotto la minaccia anche di violenze carabinieri di D.A. di Salerno hanno arrestato 5 persone con l'accusa di usura ed estorsione vediamo Da commercianti ad usurai con un esercente titolare di un negozio di abbigliamento costretto a sottostare per anni alle richieste estorsive. La direzione distrettuale antimafia di Salerno e gli investigatori della DIA hanno arrestato 5 persone di Cava dei Tirreni una delle quali era già in carcere con l'accusa di usura ed estorsione Decisive le denunce della vittima Perquisiti locali dei commercianti che si erano trasformati a loro volte nei sattori sequestrate somme per circa 24.000 euro Io direi che è stato decisivo il contributo fornito dalla persona offesa è una vicenda paradigmatica da questo punto di vista perché dimostra che quando la persona offesa decide di rivolgersi alle istituzioni facendo questa scelta di campo fondamentale a favore delle istituzioni le istituzioni arrivano Nel nostro caso è accaduto esattamente questo il rapporto nasce come rapporto commerciale e poi si allarga il rapporto usurai probabilmente anche per tutelare crediti originariamente nati nell'ambito commerciale ovviamente tenete conto che è un fenomeno molto difficile da far emergere e direi che davvero i dati sono molto molto allarmanti da questo punto di vista In questo caso la vittima era un commerciante del settore di abbigliamento che era sotto scacco da diversi anni e che era costretto a pagare tassi esorbitanti Esattamente, abbiamo potuto ricostruire anche grazie alla consulenza ma consulenza che è stata precisa proprio perché precisi sono stati dati prodotti dalla persona offesa tassi che in alcuni casi sono andati al di sopra del 300% annuo Vediamo l'emergenza smog ad Avellino controlli serrati dei vigili urbani per le auto inquinanti L'ordinanza però non convince gli ambientalisti e dall'opposizione Luca Cipriano in calza valuteremo l'iniziativa del sindaco chiediamo un consiglio comunale monotematico sull'ambiente Vediamo Primo giorno dell'ordinanza antismoga ad Avellino controlli a tappeto dei vigili urbani per le auto inquinanti inoltre festa, ordine a ristoranti e pizzerie di mettere a norma gli impianti a legna Entro maggio naturalmente tutto dovrebbe rientrare scettici e critici sul provvedimento sia gli ambientalisti che l'opposizione che non mollano la presa sull'argomento e preannunciano una supervisione dell'attività dell'amministrazione Fa specie che l'ordinanza arrivi il giorno successivo alla sentenza della procura della Repubblica che chiede quattro mesi di condanna per due ex sindaci, Galasso e Foti proprio sul tema ambientale quindi forse il sindaco si è ricordato che era il caso di intervenire ho personalmente qualche dubbio che sia sufficiente a colmare questo problema ambientale ma faccio un ragionamento di semplice buonsenso se tanti sindaci italiani che sono nella stessa condizione della città di Avellino emanano ordinanze più restrittive con domeniche ecologiche, blocco del traffico, limitazioni alla circolazione non si capisce perché solo ad Avellino questi criteri che mi rendo conto sono impopolari non vengano applicati quindi ci riserviamo di analizzare l'ordinanza del sindaco io ho chiesto che nel Consiglio Comunale del 10 febbraio si faccia una discussione ufficiale in aula sull'argomento con una relazione del sindaco certo fare la guerra agli ambientalisti provocare di continuo chi si occupa della salute pubblica da un sindaco che si dichiara verde ambientalista mi sembra veramente un paradosso e l'allarme smog interessa anche altre città della Campania a Salerno non c'è lo stop alla circolazione ma il divieto di circolazione per i veicoli fino ad Euro 3 intensificati tutti i controlli e fioccano le multe vediamo una ventina di multe in due settimane il comune di Salerno intensifica i controlli ambientali in città è ancora allarme per le polveri sottili con ben 11 sforamenti rilevati dall'inizio dell'anno dalle centraline dell'ARPAC nel mirino gli automobilisti alla guida di auto inquinanti la cui circolazione è vietata da diverse settimane per l'ordinanza firmata dal sindaco Vincenzo Napoli traffico vietato per i veicoli diesel Euro 3 da lunedì al venerdì ma se la situazione non dovesse migliorare si potrebbe estendere il divieto anche agli Euro 4 difficile invece lo stop totale alla circolazione anche per non penalizzare il commercio salernitano in un periodo già complicato per via dello stop alle luci d'artista credo che questi sforamenti innanzitutto siano abbastanza controllati secondo l'ingegnere Caselli quello dell'ambiente che abbiamo sentito nelle scorse ore però dico di più questa è un'ipotesi un esperimento che potrebbe anche verificarsi ma al momento che sono finiti i lavori di Piazza della Libertà e quindi ci riapproviamo del parcheggio di 750 posti oppure preseguendo la battaglia che stiamo facendo con il nostro deputato salernitano per la riapertura dei parcheggi del Genio Civile quando queste due ipotesi sono in campo credo che da qui a in settimana ci saranno anche novità per quanto riguarda il Genio Civile credo che con l'assessore De Maio chiederemo un incontro un protocollo d'intesa proprio alla Guardia di Finanza che si è dimostrata disponibile sotto questo aspetto a Benevento ieri il sindaco Mastella ha presentato le dimissioni ora ci sono 20 giorni a disposizione per ritrovare una nuova maggioranza ma sembra più orientato a tornare al voto vediamo 20 giorni per ripensare alla scelta e trovare una nuova maggioranza così Clemente Mastella che ieri ha consegnato le sue dimissioni potrebbe continuare a fare il sindaco di Benevento e portare a termine la sua consigliatura che scadrebbe naturalmente nel 2021 non c'è la volontà però di trattare con Lillipuziani e Volta Gabbana Mastella lo ha lasciato intendere prima e lo ha ribadito dopo bollando come irrevocabili le dimissioni nessuna spiegazione ulteriore nessun'altra dichiarazione pure attesa e da più parti si chiede di chiarire le ragioni della scelta in Consiglio Comunale voci rilanciate anche dal consigliere regionale Mino Mortaruolo C'è stata richiesta di Consiglio Comunale e credo che si terrà quindi con tutti quanti i chiarimenti nessun dubbio sul posizionamento politico del partito credo che saranno posizioni che matureranno in Consiglio come è giusto che sia credo che quello sia l'organo deputato oggi a decidere e tutto passa anche per la responsabilità dei consiglieri dei gruppi consigliari ripeto io conosco molto bene quella che è la posizione del mio partito quindi Carmine Valentino Giovanni De Lorenzo sul tema credo siano stati assolutamente chiari e credo che noi siamo lì e ripartiremo da lì Ma l'ormai ex sindaco sembra intenzionato a tornare subito al voto ricandidandosi con una squadra rinnovata e senza traditori in sostanza si tornerebbe alle urne già in primavera e nel totonomi dei competitor si fa sempre più forte la voce che vorrebbe il centro-sinistra rappresentato da Erminia Mazzoni che proprio di Mastella è stata vice sindaco nei primi mesi del suo mandato Torniamo ad Avellino l'amianto killer dell'isochimica questa mattina gli ex operai hanno lanciato un messaggio in un'assemblea pubblica che si è tenuta al circolo della stampa in città e fanno appello alla cittadinanza e alla politica troppo assente sulla vertenza isochimica ancora una volta chiedono di essere ascoltati gli ex operai dell'isochimica che attendono giustizia in un processo ancora in corso e in una vertenza aperta per il prepensionamento questa mattina sindacati ex operai e avvocati hanno preso parte all'assemblea pubblica al circolo della stampa c'è una politica che sistematicamente si smentisce non so se il limite adesso è di un partito di un deputato piuttosto che di un senatore è un refrain che è insostenibile è insostenibile veramente perché siamo arrivati a ridurre i numeri a furia voglio dire di maturare requisiti ma il dramma vero è che queste persone voglio dire non sono inabili al lavoro lo sanno tutti e gli enti continuano a palleggiarsi sulla vita della gente è stata anche occasione per ribadire la volontà di riportare il processo ad Avellino quando una sensibilità di una città perché questo è il fatto vero non c'è sembra che vogliano nascondere un dato di fatto che c'è stato in questi anni cioè di una mancanza di lavoro che ha costretto tanti cittadini tanti lavoratori a subire i guasti di un'attività lavorativa perché si dice tanto questa è è una città che non vuole fare i conti con se stessa con un pezzo della sua storia e anche se non ci sono impianti adeguati per mettere su le ultime speriamo positive udienze che non si vada oltre è diventata una come dire una richiesta che noi continuiamo a fare non laconicamente ma convintamente pur sapendo senza prenderci in giro che c'è un problema oggettivo a Benevento una nuova iniziativa della regione in campo un camper contro il bullismo è partita da Benevento la settimana contro il cyberbullismo promossa dall'assessorato alle pari opportunità della regione Campania in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale il capologo Sanita ospita oggi in piazza risorgimento un mega track mobile in cui saranno protagonisti gli istituti scolastici e le associazioni attive sul tema Sì abbiamo immaginato dei laboratori che appunto spieghino loro l'importanza delle parole per quanto riguarda temi come il cyberbullismo e anche l'attenzione che bisogna avere con alcune psicologhe che parlano con loro invece del rapporto e delle dinamiche che si possono creare nei gruppi per diciamo contrastare quello che è il fenomeno del cyberbullismo Seguendo lo slogan Inverti la marcia i ragazzi saranno sensibilizzati sul tema sul quale come ricordano anche i vertici delle istituzioni locali non si può abbassare la guardia Benevento non è una realtà particolarmente allarmante rispetto ad altre zone anche della regione però conviene comunque porre in essere queste iniziative per alzare comunque una difesa contro questa che poi diventa una pratica sociale quello cioè di emarginare coloro che sono diversi da noi Ne siamo fortemente impegnati proprio perché i messaggi che devono costantemente raggiungere i ragazzi non abbiano fine perché se siamo qui anche oggi stamattina a parlare ad affrontare questo problema vuol dire che il problema non è stato risolto ad Altavilla Irpina il primo raduno dei gemelli organizzato dalla fotografa Antonia Di Nardo premi foto orgoglio twins e sorrisi nel comune da prima nazionale per nascite gemellari l'orgoglio di essere gemelli si celebra ad Altavilla Irpina dove si è tenuto il più grande raduno di gemelli della campagna uomini e donne bambini e anziani insieme alla loro inseparabile metà hanno sfilato nel comune Irpino avere un gemello è come avere un miglior amico tutti i giorni a casa tutti i giorni a scuola tutti i giorni in pizzeria e sinceramente è una delle cose più belle che un fratello possa avere è il nostro raduno dobbiamo farlo anche di più anche a livello nazionale ci riusciamo a capire anche se non parliamo con uno sguardo è bello perché non stanno a noi mai se sembra in compagnia 40 le coppie in Lizza nel concorso organizzato dalla fotografa Irpina Antonia Di Nardo l'incidenza gemellare delle nascite di Altavilla supera il 2% quindi siamo al di sopra della media nazionale questo dato risale comunque nell'antichità diciamo noi abbiamo dei dati anagrafici risalenti al 1803 e il sindaco Mario Vanni ha voluto omaggiare la fotografa Di Nardo con una targa speciale è stata molto brava ad organizzare una manifestazione con semplicità ma da significato molto profondo venite da Vellino e siete quattro fratelli due coppie di gemelli abbiamo anche un nome il nostro gruppo siamo i quattro gemini dal latino con i quattro gemelli due coppie vivacissime molto molto vivaci sin da piccolissimi ma sono di grande grande aiuto mi riempiono la giornata visibilmente emozionata Antonia Di Nardo ha consegnato i premi a vincerli quattro coppie di gemelli per due distinte categorie aiutare l'ambiente partendo dalla sensibilizzazione dei giovanissimi grande successo per iniziativa del comune di Salerno in collaborazione con Legambiente che ha distribuito 10.000 borracce nelle scuole 10.000 borracce distribuite in ben 464 classi di 39 edifici scolastici cittadini si è conclusa la campagna non perderti in un bicchiere d'acqua l'iniziativa di sensibilizzazione voluta dal comune di Salerno in sinergia con le società partecipate Salerno Sistemi e Salerno Pulita con la collaborazione del Circo L'Orizzonti di Legambiente oggi concludiamo questa bellissima esperienza che ci ha visto insieme devo dire la verità ai operatori di Salerno Sistemi e alle signore di Salerno Pulita in questa distribuzione a tappeto di queste borracce che ha avuto devo dire la verità un grandissimo successo ma abbiamo riscontrato grande entusiasmo per questa iniziativa sia da parte dei bambini stessi sia da parte delle insegnanti non si può sbagliare se si lavora insieme e si lavora con un obiettivo non è possibile immaginare di non ottenere dei risultati se si lavora così bene e con questo entusiasmo e soprattutto per progetti che coinvolgono la cittadinanza la campagna è nata con lo scopo di ridurre l'uso della plastica incentivando i bambini e i ragazzi sulle tematiche ambientali è un'iniziativa concreta attraverso la distribuzione delle borracce e gli alunni percepiscono in modo più consapevole quello che è la necessità di intervenire a tutela dell'ambiente e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia adesso ci sono le previsioni del tempo grazie per essere stati con noi arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.